Due test match positivi per il Team Enjoy del Friuli Venezia Giulia. Sono state quattro giornate intense e ricche di softball al campo comunale di Porpetto nell'ultimo fine settimana. Il tutto ha avuto inizio venerdì sera con la sfida amichevole tra i padroni di casa, i mojitos di Porpetto, ed il Team Enjoy del Friuli Venezia Giulia. La vittoria per la rappresentativa regionale è stata netta anche se, al di là del risultato, l'importante per la squadra di Capitano Brunello era quello di ritrovare l'affiattamento e la concentrazione dimostrata lo scorso anno in tutte le partite disputate. Nelle giornate di sabato e domenica, invece, i giocatori sono tornati nelle rispettive squadre per disputare il torneo Mojitos Fast Pitch 2015, che anno dopo anno si sta dimostrando sempre più competitivo e avvincente, merito anche del numero crescente di giocatori che si sta avvicinando a questo sport. Quest'anno, inoltre, si è presentato sulla pedana di lancio l'assessore allo sport Virginio Bragagnini per il lancio inaugurale che ha dato il via al torneo. L'ultima giornata, lunedì sera, ha visto disputarsi un incontro internazionale tra la squadra del Dream Team Ljubljana e il Team Enjoy del Friuli Venezia Giulia, e sin da subito la squadra fiulana ha dimostrato di avere un'ottima concentrazione sia in attacco sia in difesa, nella quale, sicuramente, non si può fare a meno di menzionare il pitcher Diego Drigani, che non ha concesso alcuna valida agli avversari sloveni. Buona prestazione anche di Eros Genero, che ha sostituito Drigani al quinto inning, da segnalare nel finale di partita il primo fuoricampo da tre punti di Michele Zujani e successivamente quello di Leonardo Furlan per chiudere la partita a favore della squadra locale. Doveroso segnalare che il Consiglio federale della FederBaseball, nella riunione del 21 marzo 2015, ha approvato una proposta per il campionato di softball maschile 2015. Se ci saranno i presupposti, il Consiglio federale valuterà la possibilità di iscrivere una nazionale italiana al prossimo europeo di softball maschile che si disputerà in Italia nel 2016.